E ora è il momento di Giuseppe Sullutrone. Buongiorno a tutti. Voglio ringraziare Verona che ci ha ospitato per questo congresso. Ringrazio tutti i colleghi, ringrazio tutti i delegati. Ieri abbiamo sentito, e nei giorni, anche l'altro ieri, abbiamo sentito passione, condivisione, inclusione. Molti di quegli intervistati che sono passati nel filmato hanno parlato di FIAIP come la casa degli agenti immobiliari. Ed è effettivamente così. Io la sento la casa, casa mia. In FIAIP ho mosso i primi passi nel 1989 e ho sempre condiviso con la FIAIP tutti gli appuntamenti importanti. La squadra che oggi, di cui faccio parte, che ha un percorso, anche questo, molto inclusivo. Abbiamo condiviso molte idee che sono all'interno del nostro programma. Abbiamo sentito che il mercato ci può offrire molte opportunità. Abbiamo sentito che i nostri partner bancari, che comunque attraverso Auxilia, che è diventata una delle società leader, probabilmente la più grande, che riesce a fornire un'aiuto agli agenti immobiliari nelle compravendite, ci fa capire, e probabilmente ci sfida, a cercare di creare la stessa identica cosa per gli agenti immobiliari. Nel nostro programma, per chi lo ha letto, sicuramente voi tutti i delegati lo avete letto, rimettiamo la figura dell'agente immobiliare, della professione dell'agente immobiliare, del lavoro dell'agente immobiliare al centro del nostro programma. Sono convinto che questa sfida, che noi ci possiamo prestare a intraprendere, ci porterà lontano. Sono convinto che il modello di lavoro condiviso dalla Val d'Aosta alla Sicilia ci permetterà di poterci presentare al mercato, non soltanto come una federazione che porta, porta, prevede servizi per gli associati, ma può portare finalmente lavoro a tutti quei nostri associati che si affacciano alla nostra associazione per cercare un quid in più nella loro professione. Abbiamo gli strumenti, abbiamo i partner, abbiamo gli amici, siamo all'interno di tutte le più grandi organizzazioni che si occupano di filiere immobiliare e se perdiamo questa opportunità, che ci è stato detto sostanzialmente anche nella relazione del Presidente nazionale, lui è stato un Presidente da guerra. È vero, siamo stati attaccati da tutte le parti, ma come dissi ai miei nel 2006 quando arrivò la prima sventolata di Bersani, che ci levava da tutto e quindi cominciava a darci qualche problema, dobbiamo cercare di prendere la parte buona, quindi le opportunità che ci vengono date dal mercato. Sono convinto che all'interno della federazione, insieme alla squadra con cui andrò a condividere, se è eletto il nostro programma, troveremo sicuramente lo spazio per far sì che la figura dell'agente immobiliare si elevi non soltanto perché viene formato, non soltanto perché partecipa alle nostre attività, non soltanto perché partecipa alle nostre riunioni, ma perché troverà all'interno della nostra federazione l'opportunità di poter svolgere la propria attività, che è la cosa più importante, quello che i nostri associati ci chiedono. Ritengo che questo sia un passo fondamentale che ci aspetta per i prossimi quattro anni. Sarei contento di poterlo fare con la mia squadra, qualora venissi eletto, perché all'interno della squadra sicuramente abbiamo avuto l'opportunità in questo anno di cammino insieme di trovare quella coesione e quella condivisione che ci fa sentire a tutti, tutti i candidati si dovrebbero sentire all'interno della propria casa immobiliare. Spero che questo avvenga, io sono a disposizione della federazione come sempre, e non posso far altro che a questo punto mi permetterete di ringraziare la mia regione che mi ha voluto candidare, i miei delegati che sono qui con me in sala, non avendo avuto l'opportunità di parlare ieri, e ringraziare tutti i delegati che sono intervenuti in congresso, che hanno lasciato le loro attività per venire a dare un voto importante per chi guiderà la federazione nei prossimi quattro anni. Ringrazio tutti, in bocca all'uva a tutti, e speriamo che i prossimi quattro anni ci vedano vincitori anche nel mercato immobiliare. Grazie. Applausi Grazie.